E' entrato a Ferragna tramite un colloquio e una prova che consisteva nello smontare un'attrezzatura che in quel caso era una pompa idraulica e poi rimontarla, lo chiamavano il capolavoro. Poi è entrato a Ferragna, tanto per darvi un'idea, l'officina generale comprendeva 300 persone, tanto per darvi un'idea, più c'erano tutte le officine di reparto che lavoravano specificamente nei loro reparti. L'officina generale era poi suddivisa in diverse mansioni, c'erano i meccanici, c'era l'officina di precisione, c'erano i tubisti, c'erano i falegnami, c'erano i lattogneri e poi c'era tutto il settore delle macchine utensili, torneria, fresatura, rettifica e così via. Poi c'era un'officinetta staccata che si chiamava l'officina, prototipi dove si montavano delle macchine che servivano per il confezionamento poi della pellicola, quindi astucciatrici, etichettatrici e così via. Il primo giorno cosa pensavi? Pensavi di essere un ragazzo, avevi fatto la scuola, di essere capaci quando poi ti sei trovato davanti a delle persone con tantissima esperienza, ti accorgi che il tuo bagaglio è veramente ridotto, perché ti trovi davanti a persone che ti possono insegnare tantissimo. L'esperienza nel campo della meccanica è basilare, puoi imparare poi tutti i trucchi del mestiere, tutte cose, quindi ti sembra di essere capace a fare tutto e poi invece ti manca tutto il pacco dell'esperienza che poi vai ad acquisire man mano che tu lavori. Questa poi è la sostanza. Quindi ero poi intimorito? Certamente sì, perché lì poi c'erano dei maestri che veramente sapevano lavorare con una grossa esperienza, quindi sai un campo di precisione quando tu lavori con dei centesimi di millimetro, quando usi, adesso vado su un termine tecnico, un piano di riscontro del granito che è due metri per un metro per poi lappare tutti i punzoni o tutte queste cose qui, col blu di Prussia e poi raschiettarli, raschiettarle guide, vai su delle cose che nemmeno te lo immagini perché la scuola non te lo dà, queste cose qui ti dà una sgrossatura e ti infarina, però poi questi lavori specifici non te li dà perché non è in altezza probabilmente. Dalla stazione allo stabilimento di Faragna c'è un viale che sarà lungo circa 500 metri con un controviale che veniva utilizzato proprio dalle persone a piedi o in bicicletta e io mi ricordo da bambino che c'era questo flusso di persone, praticamente questo viale che era completamente pieno, persone che erano già davanti allo stabilimento e persone che erano ancora alla stazione che si avviavano verso lo stabilimento e questo flusso era più che altro prima delle 8 e poi a fine turno normale alle 5, questo c'era questo flusso di persone proprio grande, più c'era tutto lo spostamento con i pullman, le persone che soffruivano dei pullman, davanti ad esempio alla portineria poi c'era anche un grosso parcheggio di biciclette che venivano agganciate e tante persone si spostavano in bicicletta, diciamo che all'inizio quando ero bambino non è che tantissime persone viaggiassero in automobile, più che altro si spostavano con i mezzi pubblici o in bicicletta, c'era l'officina di precisione, c'erano i tubisti, c'erano i falegnami, c'erano i lattogneri e poi c'era tutto il settore delle macchine utensili, torneria, fresatura, rettifica e così via, poi c'era un'officinetta staccata che si chiamava l'officina prototipi, montavano delle macchine che servivano per il confezionamento poi della pellicola, quindi astucciatrici, etichettatrici e così via. Io sono entrato come meccanico e diciamo che in quel periodo c'è stato un passaggio nell'estese, praticamente l'estese non so se lo sapete all'inizio venivano fatte con una bacinella, praticamente il rullo della pellicola pescava dentro una bacinella dove c'erano i prodotti che dovevano essere estesi su questo supporto, poi asciugava successivamente, ogni volta cambiavano la sostanza e venivano tutti i passaggi. In quel periodo si è passati a utilizzare l'estrusore, l'estrusore che praticamente era un sistema che faceva sì che i diversi strati non si mescolassero ma rimanessero sovrapposti uno all'altro per stendere sopra la pellicola e stavamo sviluppando proprio l'assemblamento, noi assemblavamo questi estrusori, li montavamo su nei reparti di stese e così via. Poi nello stesso tempo andavamo anche, c'era il famoso reparto A, reparto A era un reparto dove si preparava il supporto per la stesa poi successiva sopra la pellicola, era praticamente del collodio allo stato fuso tramite dell'acettone che veniva steso in uno strato sottilissimo sopra un nastro di acciaio inossidabile e questo nastro di acciaio inossidabile che era abbastanza lungo, dopo un po' di tempo diventava poroso e bisognava sostituirlo e sostituire un nastro era un grosso lavoro, un lavoro anche delicato perché bisognava stare attenti che questo nastro non si rigasse, non avesse degli urti e così via, era un nastro che era largo circa un metro e mezzo e aveva uno sviluppo intorno ai 24-25 metri, era un anello praticamente messo su due grandi rulli e poi girava e c'era una tramoggia che stendeva questo, quindi facevamo anche la sostituzione di questo nastro e poi molti altri lavori che comprendevano revisione di pompe idrauliche, revisione di compressori in centrale e così via, la centrale utilizzava ancora l'ammoniaca per raffreddare nei reparti e quindi c'erano i compressori dopo stadio che comprimevano questa monia, avevano bisogno di manutenzione perché si incrostavano e così via. L'organizzazione del lavoro era così fatta che praticamente eravamo suddivisi in squadre come vi ho detto prima di meccanici e così via, al mattino il capofficino arrivava lì con delle bolle, li chiamavano praticamente così erano, che i vari reparti richiedevano delle opere di manutenzione, ci dava un foglietto dove c'era scritto cosa c'era bisogno di riparare o di revisionare e noi andavamo e facevamo il lavoro che si doveva fare, ad esempio che arrivava una bolla scritta sopra pompa non funzionante, andavamo là, smontavamo questa pompa idraulica, la portavamo in officina, revisionavamo e la rimontavamo sopra. C'è da dire una cosa che dal periodo lavorativo che ho fatto io all'inizio, adesso è cambiato tantissimo, allora si riparava e si aggiustava tutto, adesso siamo entrati in un mondo dell'usa e getta, non è più conveniente ad esempio revisionare una pompa idraulica, conviene buttarla via e comprarne un'altra, ai tempi degli anni 70 si revisionava tutto, si cambiavano i cuscinetti, si cambiava tutto quello che c'era bisogno, premi trecce e così via. Il reparto D era un reparto dove veniva confezionato la radio e veniva confezionato le varie pericole specialmente il 135 in maniera semi automatica, si è passati poi a confezionare al reparto G il 135 in maniera automatica, cioè hanno portato praticamente le astuciatrici e le trucchettatrici al reparto G e il confezionamento è stato abbandonato, il confezionamento semi manuale a quello automatico che è passato al reparto G. All'inizio le macchine semi automatiche gli arrivava la bobina di pellicola già perforata, c'erano delle perforatrici che perforavano la pellicola e la mandavano su queste macchine, quando si è passati alle macchine automatiche praticamente la pellicola è passata da una perforazione verticale, prima la perforazione veniva fatta verticalmente con dei punzoni a una perforatrice rotativa, praticamente un rullo che aveva una serie di punzoni e un rullo femmine che aveva una serie di matrici e veniva perforato in questo modo qui, quindi si è passato dalla perforazione verticale che era molto più lenta alla perforazione rotativa che era molto più rapida. La luce controllata ad esempio nelle macchine 135 era quasi totale perché praticamente il prodotto era molto sensibile e quindi rischiavi di velare queste bande. Quando poi succedeva un problema, normalmente cosa facevano? Gli operatori ritiravano le bande non impressionate, li portavano in una camera oscura chiusa, accendevano le luci e noi facevamo le dovute riparazioni a queste macchine con delle bande che erano di scarto, che venivano utilizzate proprio per vedere se c'era dei problemi su queste macchine. Quelle macchine erano macchine diciamo in parte meccaniche e in parte pneumatiche, usavano una parte pneumatica e una parte meccanica. A volte succedeva che per qualche motivo, ad esempio un rullino che si incastrava in mezzo a dei tamburi andavano fuori fase, praticamente saltavano delle catene e la macchina allora bisognava rimettere tutte le macchine in fase, calibrare tutti i tamburi e c'erano di tamburi calibrati, avevamo dei calibri, passa o non passa, non so se sapete di cosa si tratta, sono dei calibri che hanno praticamente due misure, una si chiama passa e l'altra non passa, quindi si controlla che le misure giuste di questi tamburi siano adeguate a questo calibro. Ecco, sono calibri che vengono usati sia per, anche diciamo nelle parti meccaniche ad esempio quando si fanno una serie di alberi ci sono fatti dei calibri fatti a forchetta, mentre invece quando si fanno delle forature ci sono dei calibri fatti a tampone, noi avevamo dei calibri fatti a tampone che ad hoc usavamo questo. Poi fuori c'era diciamo una macchina che il lamierino che avvolgeva il rullino, era un lamierino piatto, veniva praticamente arrotolato e poi prima di essere arrotolato veniva applicato due striscette di velluto che erano quelle che proteggevano la pellicola quando usciva dal rullino in modo che questa pellicola non si rovinasse. Quindi c'era un sistema ad ultrasuoni che incollava questa striscetta di velluto sopra al lamierino, il lamierino veniva arrotolato, veniva applicato un fondello, a questo punto passava nella parte tramite un tamburo nella parte a luce controllata, dentro questo rullino senza un fondello veniva inserito un rullino di plastica dove era avvolto sopra la pellicola, a questo punto veniva inserito l'altro fondello e il rullino era pronto. A questo punto andava verso il confezionamento, un confezionamento che consisteva nell'applicare un'etichetta perché a Ferragna si lavorava con tantissime etichette. Il reparto di confezionamento era un grosso spazio dove c'erano tutte le macchine di confezionamento a luce normale, poi c'erano tutte le stanzette dove c'erano queste macchine a luce controllate che praticamente convogliavano nella parte retro in un corridoio a luce controllata dove praticamente poi c'erano delle sale di manutenzione, quindi c'erano delle sale di manutenzione dove c'erano tutti i quadri elettrici e così via e poi praticamente dall'altra parte c'era la macchina a luce controllata. Lì il numero di donne era molto elevato perché specialmente nella bobinatura no, nella preparazione del rullino no, ma nel confezionamento era quasi esclusivamente dedicato a donne che facevano la preparazione dentro l'astuccio del caricatore. Diciamo che il rapporto con le donne per quanto riguarda il rapporto lavorativo ovviamente non è così facile, a volte le donne si lamentano perché magari la macchina ha un problema e così via, hai bisogno magari di curarle un po' di più, a volte succedeva adesso un anettodo che facevamo finta di modificare qualcosa perché loro si lamentavano di un problema e però la macchina non aveva nessun problema, facevo finta di modificare qualcosa e dicevo prova e queste erano contente, gli sembrava che la macchina fosse meglio ma in fondo non avevamo cambiato assolutamente niente, questo era un po' il trucchetto che a volte facevamo per accontentarla. Negli anni 70 ero entrato a far parte della squadra antincendio, all'interno di Ferragna c'era una squadra antincendio che dipendeva da un ufficio di sicurezza e praticamente succedeva che c'era un responsabile che era fisso con una squadra antincendio e poi c'erano tutte persone che facevano parte di questa squadra fuori orario di lavoro, si dedicavano a tutti i lavori che comportavano questa cosa, controllo istintori, controllo manichette, controllo impianti antincendio e così via. Poi io nel novembre del 72 sono andato a militare e nei Vigi del Fuoco, quattro mesi a Roma come scuola allievo e poi un anno al comando di Imperia nei Vigi del Fuoco. Poi ho terminato questo periodo, sono rientrato a Ferragna e a Ferragna non c'era problema, non ti licenziavano, non perdevi niente, ti tenevano il posto lavorativo, quindi rientravi normalmente, nel marzo del 74 sono entrato di nuovamente a Ferragna e ho proseguito il mio lavoro. Poi nel 1900 e alla fine del 89 è andato in pensione la persona che era responsabile del servizio antincendio, io ho preso il suo posto. Provenendo dal? Provenendo dal reparto G, dal confezionamento sono andato nell'ufficio sicurezza e lì ho cominciato a occuparmi di sicurezza antincendio e tutto quello che comporta la sicurezza. Eravamo un gruppo, c'era un responsabile e poi ci occupavamo, io all'inizio solo di antincendio, gli altri si occupavano di sicurezza sul lavoro e così via. Poi praticamente lì ho preso in mano questa situazione, questa situazione che praticamente era una situazione cartacea e io pian piano ho passato tutto sul computer, praticamente ho registrato tutto quello che c'era cartaceo e l'ho riportato su dei… Allora si lavorava con i dischetti, lavoravamo ancora con il Lotus 3 e il DV4 per scrivere, tanto per darvi un'idea, quindi abbastanza complicato e pian piano abbiamo parlato di questo. Tanto per darvi un'idea, Ferragna aveva 1500 estintori sparsi su tutto lo stabilimento, aveva un impianto antincendio con un serbatoio da 2300 metri cubi di acqua, con due pompe che erogavano in caso automatico un… servivano praticamente un impianto che aveva un anello che circondava tutto lo stabilimento, portavano una pressione alle manichette di 11 bar, tanto per darvi un'idea. Una cosa grossa, avevamo una varietà di impianti antincendio molto vasta, impianti a umido, tanto per darvi un'idea, l'impianto umido è un po' come quello che si vede nei grandi magazzini con gli sprinkler, che in caso di incendio si rompe uno sprinkler e comincia a fuoriuscire acqua. Poi avevamo dei tipi di impianto a secco perché c'era da proteggere ad esempio delle attrezzature che erano fuori dai reparti, quindi in caso di congelamento l'acqua non poteva essere erogata dagli sprinkler, quindi un sistema che ha un rivelamento ad aria e uno spegnimento ad acqua, eventualmente anche con l'aggiunta di schiuma perché se le sostanze sono solventi con l'acqua non si riescono a spegnere. Quindi avevamo tutto l'impegno questo, più facevamo dei corsi antincendio alle persone che venivano assunte o anche persone che già lavoravano dentro, man mano a giro facevamo i corsi antincendio. Facevamo le prove di evacuazione, quindi questo era praticamente, si era cominciato a insegnare alle persone ad abbandonare il posto di lavoro in modo corretto. All'inizio le persone lo prendevano un po' come una cosa strana, diciamo scherzosa, poi pian piano ha capito che era veramente una cosa seria, sapere abbandonare un posto di lavoro in modo sicuro, quindi queste venivano fatte regolarmente, ogni anno a giro facevamo un reparto, facevamo le prove di evacuazione. Facevamo anche controllo degli istintori fuori dallo stabilimento, andavamo ad esempio a San Felice in un magazzino vicino a Vignate a controllare gli istintori a Milano, facevamo le corsi antincendio anche a… in quel periodo Tremme aveva acquisito diversi stabilimenti in Italia, a Legnano, a Sulmona, a Ozzano Emilia e così via, avevano degli stabilimentini che preparavano delle cose un po' particolari, ad esempio a Legnano producevano una striscia in piombo che veniva usata sulle autostrade in caso di cantieri provvisori, venivano stese sugli asfalti, producevano questa cosa. A Ozzano Emilia producevano un film con praticamente i segnali stradali, poi venivano applicati su un supporto in lamiera che era poi il segnale stradale. A Sulmona producevano un… praticamente prendevano un foglio di alluminio molto sottile e sopra stendevano dei prodotti che servivano per poi preparare il cliché per le riviste. Quando si stampava le riviste si usava questa cosa. Quindi tutti questi stabilimenti, quando Tremme gli acquisiti, ci ha chiesto a noi di andare a vedere se il sistema di sicurezza lavorativo antincendio era corretto e di istruire tutte le persone come corsi antincendio. Una giornata tipo com'era? Una giornata tipo era che Ferragna è un… se torno un attimo indietro vi dico che Ferragna era entrata in quegli anni nella Grandi Rischi. Cos'era Grandi Rischi nel… Nel 76 a Seveso era esploso, non so se vi ricordate, un reattore che aveva praticamente sparso della diossiglina. Allora cosa era successo? Che nell'82 è stata recepita la direttiva Seveso a livello europea e poi nell'88, praticamente noi sempre in ritardo, abbiamo recepito questa direttiva, l'abbiamo trasformata in una legge dal 175 che era Grandi Rischi. Cosa consisteva? Consisteva che se all'interno di un sito c'erano certi prodotti, entravi dentro questa legge e dovevi rispettare alcuni canoni. Noi ci siamo entrati alla grande perché avevamo un grosso quantitativo di solventi e di prodotti vari che facevano parte appunto di questo elenco. Quindi cosa consisteva? Che quando c'era qualche lavoro di manutenzione, ad esempio nell'area chimica, che era un'area abbastanza pericolosa perché c'era presenza di solventi e di sostanze molto volatili, quindi molto pericolose, quando c'era delle azioni di manutenzione facevamo praticamente una procedura. Le procedure erano una serie di regole fatte molto semplicemente, a comprensione di tutti, su vari argomenti. Quindi, diciamo, lavori a fiamma libera, ingressi in ambienti confinati e così via. Quindi applicavamo questa procedura per i lavori di manutenzione. Quindi cosa consisteva la procedura? Consisteva nel controllare il sito se era pulito, che non c'era presenza di sostanze infiammabili. Facevamo un test di esplosività con uno strumento che misurava l'esplosività nell'ambiente. Poi, normalmente, lasciavamo sempre una persona a controllare la ditta che eseguiva un lavoro. C'era un presente, un addetto antincendio con un estintore pronto che in caso di bisogno interveniva. Quindi si firmava questo foglio, lo firmava il caporeparto e lo firmava il responsabile della ditta che eseguiva questo lavoro. Io di queste procedure ne facevo un bel po', diciamo, nell'arco dell'anno. Quindi quasi tutti i giorni c'era una procedura. Poi a volte c'era ingressi in ambienti confinati. Cosa va era? C'erano dei grossi reattori nell'area chimica da 6, 8 mila, 10 mila litri. A volte avevano bisogno di manutenzione interna, dei serbatoi o così via. Persone che entravano in questi ambienti confinati. E noi applicavamo un canone molto rigido. A parte i controlli, i controlli di ossigeno, la presenza all'interno di questi reattori. E poi avevamo un sistema di estrusione rapida delle persone. Praticamente le persone che entrava dentro veniva imbragata. Poi sopra c'era una carrucola che in caso di bisogno la persona veniva tirata su molto rapidamente. C'eravamo sempre, anche lì, un addetto antincendio. Io presidiavo sempre questi ingressi perché vicino avevamo un autorespiratore con l'aria compressa. In caso di bisogno intervienavamo rapidamente. Io vi dico che nella mia vita lavorativa non abbiamo mai avuto nessun problema perché eravamo molto rigidi in queste cose. Quindi quando io a volte sento fuori persone che muoiono perché vanno a pulire una cisterna, cose cose, nel 2017 mi sembra molto strano. Quindi noi già negli anni 90 applicavamo queste regole e non c'è mai successo niente, assolutamente niente. Dicendo che erano luoghi molto pericolosi, molto delicati con tutte queste cose qui. Quindi la mia vita lavorativa, la giornata si smodeva a questo. Poi ovviamente organizzare le persone che venivano. Avevo sempre delle persone che fuori dall'orario arrivavano. Arrivavano e c'era il controllo degli estintori. Preparavo delle schede in modo che le persone andavano, controllavano gli estintori e così via. Mi segnalavano ad esempio se c'era delle anomalie, estintori da verniciare, estintori smurati. Poi c'era ad esempio tenere tutta la manutenzione delle cassette antincendio contenenti ad esempio le manichette. Anche lì mi organizzavo, appunto che poi i miei uomini andavano, verniciavano, revisionavano e così via. E poi diciamo che al sabato mattina, che anche lì eravamo impegnati, lo dedicavamo all'addestramento, all'addestramento antincendio. Anche lì facevamo, avevamo creato un campo prove. Diciamo che il nostro capo era stato in America e praticamente aveva subito un corso antincendio. Quando è arrivato noi pian piano abbiamo organizzato un campo prove antincendio, un campo dove c'era delle vasche. Quando noi facevamo i corsi alle persone, dentro queste vasche praticamente vuotavamo del solvente di scarto, lo incendiavamo e le persone con gli estintori provavano a spegnere queste vasche. Avevamo vasche tonde, piccole, più grandi. La vasca croce. La vasca croce è una vasca fatta con diversi angoli perché crea più difficoltà. Più angoli ci sono, più il fuoco si annida negli angoli, quindi più diventa difficile. Poi avevamo creato un box dove c'era praticamente un labirinto al buio per provare anche le persone che indossavano l'autorespiratore. L'autorespiratore è un'attrezzatura che si usa quando si fa ingresso in ambienti confinati, in ambienti inquinati. È un'attrezzatura che praticamente consiste in una bombola contenente aria compressa dove c'è un erogatore che porta l'aria alla maschera, che l'operatore respira e può entrare in qualunque posto dove c'è dell'inquinante o dove c'è del fumo e può muoversi liberamente. Avevamo fatto anche lì un labirinto, le persone indossavano queste e provavano a entrare dentro questo labirinto e uscirne. Il mondo di schiatti lo ricordo per averlo sentito raccontare, non l'ho vissuto personalmente perché non mi ricordo, però la vita al dopolavoro si chiamavano i veglioni, quando si faceva queste mega feste, mi ricordo il cinema che si faceva il giorno della Befana, quando il cinema era gratuito per i bambini e davano il sacchettino di caramelle e queste cose qui. Poi c'era tutta l'attività intorno al dopolavoro, c'erano i giochi da bocce, le bocce erano sviluppatissime, si faceva a San Pietro la famosa boccia d'oro che venivano campioni da tutta Italia a giocare questa gara e poi c'eravamo noi ragazzi che avevamo bastito anche una squadretta di calcio, poi c'era il tennis e poi c'era tutta l'attività intorno, la pesca e così via. La mission è stata presentata come un'innovazione, tanto per farvi un esempio, è arrivata la cosa di dire non mettiamo agli impiegati, non mettiamo più la cravatta, ma andiamo con la maglietta, tanto questa è stata una cosa che mi è rimasta impressa, a questo punto i diritti, i genti non mettevano più la cravatta, mettevano l'Apollo perché in mission aveva suggerito questa cosa. A tutti i dipendenti a casa avevano portato una bottiglia di spumante e una cassetta VHS dove presentavano in mission. I manifesti che c'erano all'interno dello stabilimento, si vedeva due grandi piedi di una persona adulta e due piedini piccoli di un bambino sovrapposti l'uno all'altro e praticamente rappresentavano tre M, i piedi di un adulto e in mission che aveva questi piedini di un bambino e un po' queste cose qui, però poi in mission, come mi ripeto, si è rivelata l'inizio del declino, una scatola vuota dove è stato introdotto dentro non solo Ferragna, ma altri stabilimenti nel mondo, poi si è saputo, che erano stabilimenti che praticamente non portavano più un margine di guadagno adeguato secondo tre M, questa è un po' la sostanza. Il declino l'ho visto quando Ferragna ha venduto i brevetti alla Kodak nel 1994, tenendosi solamente due anni per produrre ancora radio, praticamente lì è stato secondo me il primo passo del declino e questa è stata un po' l'opinione di tutti quelli che erano all'interno dello stabilimento. Poi in mission è arrivata facendoci credere che questa doveva essere un'innovazione, che doveva essere l'inizio di un nuovo percorso, perché 3M ci aveva abbandonato, ma in fondo poi si è scoperto che in mission Ferragna non era altro che una scatola vuota dove 3M ci aveva messo dentro le varie fabbriche che praticamente non avevano più un ritorno adeguato secondo loro e pian piano ci ha portato verso il declino, questa è un po' la sostanza. Noi come abbiamo percepito poi l'inizio del declino? L'inizio del declino l'abbiamo percepito quando praticamente ci hanno cominciato a dire che dobbiamo tagliare nei nostri settori i vari acquisti, le varie spese, cercate di non comprare questo, cercate di non comprare quest'altro, limitiamoci nelle spese e questo è stato l'inizio del declino, quando tu vedi che cominci a tagliare sulla sicurezza, cominci a tagliare sull'acquisto di nuovi estintori, tanto per darvi un'idea o l'acquisto di nuove manichette perché sono ormai obsolete, quando vedi che cominciano a tagliare le ore alle persone perché bisogna risparmiare e quindi gli addetti antincendio viene tagliato un monte ore per ridurre i costi e comincio a capire che praticamente si va verso un declino. Nel mio ambito lavorativo ho un rapporto con molte persone che erano degli ispettori, ispettori ARPAL, ispettori dell'ispettorato del lavoro e così via, perché vi dico questo? Perché c'era un ingegnere, che non menziono, di Genova, quando ha saputo le persone che praticamente ci avevano acquistato, questo signore ha detto questi sono solo degli speculatori, non acquistano questo sito per mandarlo avanti, per produrlo, ma lo fanno solo per praticamente sfruttarlo al massimo e poi chiuderlo, quindi poi queste sono state parole che si sono rivelate verità. Poi praticamente da quel periodo abbiamo cominciato le prime proteste, i primi cortei, i primi blocchi dell'autostrada, i blocchi della strada nazionale, le assemblee con questi sindacalisti, poi personaggi fuori dello stabilimento con i classici bidoni accesi con le pedane che bruciavano dentro, presidi e così via, poi ha cominciato praticamente un po' di cassa integrazione a rotazione, che noi abbiamo subito, facevamo una settimana di cassa integrazione al mese e pian piano si è andato verso il declino, preventivamente un gruppetto avevamo pensato appunto a questa legge sull'amianto, eravamo una decina di persone che ci era venuto in mente che a Cogoleto, la Stoppani aveva dato questi incentivi sul problema dell'amianto, allora lì abbiamo cominciato, siamo andati all'ufficio del personale a chiedere, facendo domanda per questa legge, nel 91 sapete che è entrata in vigore la legge che praticamente veniva bandito l'amianto nei siti lavorativi e lì subito di primo approccio l'ufficio personale non ha voluto, poi in seguito con l'insistenza abbiamo fatto appunto domanda a Lineal per chiedere queste cose, Lineal ovviamente di primo acchito l'ha respinta, perché poi quando praticamente c'è stato il patatrac, quando praticamente la fabbrica stava chiudendo, hanno chiesto appunto di inserire queste leggi e le prime persone che hanno preso, siamo andati in pensione con questa legge sull'amianto nel 2005, siamo stati un gruppetto di 10-12 persone che eravano quelli che avevano fatto domanda agli inizi, in parecchi adesso io i numeri non li so, il primo acchito siamo andati in una dozzina, eravamo persone che erano pionieri, avevano fatto questa domanda di punto di rischio amianto e poi ci è stata riconosciuta e che l'abbiamo preso. I sindacati, diciamo che i sindacati poi in fondo fanno un po' quello che si vede anche attualmente il comportamento generale, poi il sindacato cerca di alzare la voce, ma poi in fondo secondo me risolve molto poco, Ferragna secondo me è stata una chiusura politica voluta, una cosa che Ferragna poteva essere convertita, non so, in qualunque tipo di attività fa, ma non essere chiusa in questo modo. Ferragna è stato un paese dove c'erano persone locali e poi ha ricevuto tantissime persone che sono arrivate da fuori, ovviamente per lavorare a Ferragna, quindi sia operai, sia dottori, sia gente laureata che era a Ferragna. Poi pian piano è successo che tante persone se ne sono andate, tante case sono rimaste vuote e diciamo che le agenzie immobiliari poi cosa hanno fatto? Hanno venduto case a persone esterne, persone che probabilmente non sapevano nemmeno dove era Ferragna, adesso ci troviamo con una parte di persone che ci conosciamo, che sono locali, una parte di persone che sono venute a abitare a Ferragna perché hanno comprato una casa a prezzi abbastanza competitivi. Questa è un po' la sostanza. Ferragna attualmente è un paese che ha pochissima vita, pochissima vita come attività perché diciamo che siamo passati ad avere un bar saltuariamente aperto, a un tabacchino, a un negozio e a poc'altro non avere nemmeno più la stazione perché si ferma due treni al giorno a Ferragna, tanto per darvi un'idea e quindi un paese che è molto in declino, mentre era un paese che aveva un'attività fiorente, commerciale intorno allo stabilimento e girava il soldo, attualmente è un paese che è molto abbacchiato. Per noi che abbiamo vissuto, per noi che la nostra vita è stata a Ferragna e abbiamo vissuto dentro a Ferragna è una cosa molto molto triste perché vedi proprio un sito che produceva, che dava lavoro, che faceva girare praticamente una vallata, una provincia e lo vedi lì spento senza più prospettiva lavorativa, adesso praticamente sì c'è delle cosettine alternative, la cartiera, Ferragna Farma che praticamente hanno creato una zona distaccata nell'area chimica e producono un po' di roba chimica, ho parlato con qualche persona, ma anche lì questi impianti devono essere poi adeguati, rinnovati, se tu continui a lavorare con impianti che hanno ormai 40 anni non puoi durare, il sentore è veramente una cosa triste, un sentimento triste. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.